Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e non sono sparito, non sono morto Come potete sentire dalla mia voce sono ancora raffreddato, purtroppo ho preso l'influenza Non sono riuscito a registrare il video perché stavo parecchio male Non sono andato in live, non ho fatto praticamente nulla Sono riuscito però a caricarvi i video della serie Con questo video oggi voglio farvi vedere un po' di cose Visto che ho distrutto un attimo qua dietro per ricomporre in un po' Vabbè, poi capirete dal video In ogni caso, in questo video voglio spiegarvi un paio di cose del PC Voglio farvi vedere una prova che ho fatto e voglio chiedervi un paio di domande Prima di iniziare con il video ci tengo a dirvi un paio di cose Intanto voglio ringraziare tutti coloro che hanno seguito la serie del SuperPC Il supporto che avete dato Sono contento di come è andata la serie Mi sarebbe piaciuto riuscire a farla in anche altri modi Però purtroppo per tempo, per tanti altri motivi È dovuta essere stata fatta in quel modo Inizialmente dovevano essere 10 video Poi mi avete chiesto di rendere un po' più corposi i video Nonostante quelli successivi sarebbero stati in ogni caso più corposi Quindi ho unito un paio di video e sono diventati 8 in totale In ogni caso la serie è venuta abbastanza bene Se non per qualche problema di audio o di manoferma Dimo che va a riprendere altre cose In ogni caso, vabbè, lo ringrazio perché è rimasto 13 ore in mano a tenere la fotocamera a riprendere cose Quindi ci ha fatto un grandissimo supporto Lo ringrazio davvero tanto Vi lascio il suo link di Twitch in descrizione se volete andare a mettergli un follow Abbiamo dovuto fare tutto abbastanza in fretta La serie è stata registrata dalle 10 del mattino e abbiamo finito alle 3 di notte Abbiamo chiuso la serranda e tutto quanto alle 3 di notte Purtroppo per giorni, tempo, lavori e tanti altri motivi Non abbiamo potuto effettuare questa serie in più giorni E purtroppo non c'è stato neanche Andrea come vi avevo già detto all'inizio della serie Siamo riusciti a farvi vedere esattamente tutto ma appunto registrando ogni singola parte Ovviamente ci è voluto più tempo Se avessimo solo montato il PC ci avremmo messo magari un paio di ore Anche facendo con calma quelle 3-4 ore Ma proprio facendo con super calma stando attenti a qualsiasi cosa Invece registrando tutto, scaricando i file Facendo tutte le varie cose che vanno fatte quando bisogna registrare un video Ovviamente il tempo è aumentato Non abbiamo mangiato, abbiamo mangiato tardissimo e è stato difficilissimo Però sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto Voglio adesso rispondervi a un paio di domande o di commenti barra critiche Che avete fatto appunto sotto questa serie Inizialmente con i video leggermente troppo poco corposi A detta vostra, il primo di introduzione con i vari componenti Però raga purtroppo o per forza di cose Quando ci sono dei brand in mezzo e questa è stata tutta un'attività sponsorizzata Bisogna ovviamente ringraziare e far vedere tutti i vari componenti In almeno un video dedicato dove presentare tutto il progetto Perché nonostante molti di voi siano iscritti al mio canale Ci sono delle persone che hanno magari iniziato a vedere quella serie Come primo video del mio canale Quindi era giusto far capire a tutti quanti i componenti Sia hardware come sponsor che della serie eccetera Una critica che è stata fatta nel secondo video È stata quella di testare i componenti Un ragazzo ha detto Ah che spreco di tempo, che video inutile Non ha senso testare dei componenti nuovi eccetera Di fascia così alta eccetera Caro mio sei proprio una testa di No scherzo, non voglio insultarti Però stai attento a cosa dici Perché effettivamente ti sbagliavi E se vengono effettuati dei test ci sono dei motivi Partiamo dal fatto che questa è una build Non come tutte le altre dove Se hai qualche problema semplicemente cambi il pezzetto al volo e via È una build dove hai migliaia di euro di configurazione Dove hai tantissimi pezzi che possono avere qualche problema Ed effettivamente è stato così Noi nonostante avessimo provato tutti i vari componenti prima E avessimo effettuato un test di accensione Alla fine di tutto Dopo un po' di giorni che sono tornato a casa Anzi da subito o quasi Una volta installato tutto e effettuati dei test Ci sono stati dei problemi E caro mio Uno di quei componenti di fascia così alta Non funzionava Purtroppo il processore ha avuto dei problemi Però quando vai a installare una configurazione così di fascia alta Non puoi semplicemente aprire, togliere e fare a caso Perché c'è del liquido Ci sono tante altre cose a cui bisogna prestare attenzione Effettivamente il nostro test iniziale di verifica dei componenti Se non per le schede video visto che le avevo testate io E tutto il resto che avevo già più o meno testato Ovviamente è stato abbastanza veloce Ma purtroppo come vi ho detto per questioni di tempo Non l'abbiamo potuto fare altrimenti Per quanto riguarda il processore infatti Non ci siamo accorti subito che aveva dei problemi Perché effettivamente il PC si accendeva Funzionava e tutto Quando sono andato a utilizzare effettivamente il computer Sono andato a installare tutti gli aggiornamenti eccetera In live ho iniziato subito ad avere i primi problemi Mi dava out of memory In quel momento io subito ho pensato che fosse un problema di RAM Ho provato a vedere e utilizzavo effettivamente tipo il 6% di RAM 10% proprio a voler esagerare E ha 32 GB di RAM di DR4 di fascia altissima Quindi non vedo come potesse essere la RAM il problema Però vabbè in ogni caso dava out of memory Ho cambiato la RAM e ho continuato ad avere lo stesso problema Ve lo giuro ho smontato tutto Alle 3 di notte stavo dando di matto Quando veramente non sapevo più cosa fare Perché mi stava facendo diventare deficiente Ho smontato tutto quanto Sono andato a montare un'altra scheda video Ho smontato tutto il loop così come stava Sono andato a mettere tutto quanto A togliere tutto il possibile E continuava a dare lo stesso errore Quindi mi è venuto in mente che fosse la scheda madre Perché c'erano già stati altri problemi Non con questa scheda madre Ma in altri casi dove all'out of memory Era dovuto appunto a qualche problema con la scheda madre Siamo andati Sono tornato da K una settimana dopo E abbiamo cambiato la scheda madre Effettivamente dava lo stesso problema Quindi non è stata nemmeno la scheda madre Abbiamo cambiato il processore E finalmente abbiamo risolto il problema E caro mio come vedi Ci possono essere problemi Soprattutto su una build come questa Ti assicuro che averne non è per niente piacevole Quindi Testare i componenti è una cosa molto importante Se avessi avuto più tempo L'avrei fatto con molta più calma Avrei provato tutto prima ad aria Avrei fatto l'installazione del sistema operativo Test di RAM Test di processore Eccetera Ma non c'è stato il tempo appunto Come vi ho detto In ogni caso adesso voglio farvi vedere un paio di cose Quindi prendo la telecamera E vi faccio vedere subito una cosa Allora Partiamo dal fatto che ho smontato tutto Come potete vedere c'è il mio pc Non ci sono più le casse La scrivania dove avevo messo Attualmente l'altra postazione È tutta mezza smontata Il super pc è qui Con il plexiglass Funziona bene L'unica cosa che non funziona È la ventola Cioè no La ventola funziona in realtà Ma è l'RGB della ventola Che proprio non vuole funzionare Tutto il resto funziona senza problemi Le temperature sono ottime Per tutti i benchmark eccetera Vorrei ritardare leggermente il video Probabilmente se non riuscirò a venerdì Magari qualche giorno dopo Perché voglio effettuare tutti i vari test Possibili e immaginabili Adesso vi faccio vedere Come potete vedere qua sopra c'è solo il pc Due monitor E un altro pc Qua sopra ci sono due mouse Una tastiera eccetera Ma non è questo il punto Ho scollegato quest'altro monitor Che per chi se lo chiedesse È un BenQ 24xl2430T Una roba del genere Un monitor full hd 144Hz E sono andato a collegare Sia il super pc Che il mio classico pc A entrambi i due monitor Come potete vedere adesso Sono collegati entrambi Al mio solito pc Mi basta semplicemente andare Sul tasto del monitor Switchare L'input E automaticamente Sto utilizzando quel pc E posso farlo con entrambi i monitor Adesso non ho ancora La soluzione per sia mouse che tastiera Dovevo prendere uno splitter probabilmente Ma voglio farvi vedere una cosa Una cosa molto curiosa Che vorrei farvi vedere Ho già postato una foto su Instagram Facebook eccetera È riguardante i consumi Delle configurazioni In molti sono convinti Che per delle configurazioni Servano degli alimentatori Da 200 miliardi di watt E eccetera Allora voglio farvi vedere i consumi Intanto di questa configurazione Come potete vedere ci sono Uno slide di 1080 Vabbè conoscete ormai Tutti i vari componenti Un i7 Overclockato 6700k In questo caso Overclockato a 4 gigahertz e 6 E il consumo In idle È di 122 126 watt Dipende Flutto assù Queste cifre Noi abbiamo in questo caso Un alimentatore da 850 watt 80 plus Titanium Il massimo come efficienza Per quanto riguarda Un alimentatore Adesso voglio farvi vedere Una cosa Per farvi vedere Quanto va a consumare Con entrambe le schede video A pieno carico Stanno lavorando al 100% Le due schede video E come potete sentire Il rumore È assolutamente Nullo Adesso voglio farvi vedere Una cosa Spostiamoci sul Programma della Thermaltake Questo è il consumo A pieno carico Con entrambe le schede video Che stanno andando al 100% Engine event Consuma anche leggermente Il processore Quindi direi di andare A eliminare il processore Diciamo dal pieno carico E di far partire Furmark Con lo stress test Allora Lo spostiamo Andiamo a controllare Che entrambe le schede video Siano a pieno carico Vediamo se riesco a mettere a fuoco Ok Come potete vedere Sono entrambe al 100% 1,97, 95, 98, 92, 100 102% Sono entrambe le due schede video Al 100% di carico In questo caso Siamo arrivati A 440 Watt Di consumo Ben Cioè È una cifra molto alta Vi assicuro Per arrivare a questi consumi Comunque È molto difficile Con dei componenti Di nuova generazione Ora Per andare proprio A appesantire ancora di più Andrò a far partire Anche Cinebench Con il processore Con il test del rendering Del processore Adesso vediamo di metterlo in piccolo E Con anche il processore A pieno carico Siamo intorno ai 200 400 500 Abbiamo toccato per un attimo 470 480 470 Come potete sentire In ogni caso Io sto parlando però Anche se dovessi stare in silenzio Il rumore del PC È completamente silenzioso Le ventole stanno girando È l'unica parte mobile Se non per anche la Pompa che vibra leggermente Ma nulla di che E come potete vedere A pieno carico Abbiamo superato appena appena I 500 watt Quindi Per tutti coloro Che dicono Eh madonna Un alimentatore Da 600 watt Non tiene Una 1060 O non tiene Certi tipi Di processori Schede madri Schede video Eccetera Raga Non serve Avere Chissà che grandi alimentatori Perché ormai I consumi Stanno scendendo Sempre di più È bene Sì avere Del margine Ma non fatevi illudere Non fatevi spillare soldi O comprare Dei componenti Magari da Degli alimentatori Da 850 1000 watt Per poi andare a metterci Una 1060 Qui come potete vedere Sta andando ancora Al 100% Siamo intorno ai 53 gradi 50 gradi A pieno carico Con Furmark Che sta funzionando E anche il test Del processore Quindi Non è per niente male E Anche per tutti Coloro che dicevano Che un alimentatore Un dissipatore Da Cioè un radiatore Da 360 Fosse troppo poco Per tutti questi componenti Raga Dovete tener conto Anche dello spessore È il doppio rispetto A un normale Dissipatore All in one Quindi è come se fossero Due dissipatori Da 360 Di metà Dello spessore E le ventole Stanno andando al minimo Quindi si potrebbe Raffreddare il tutto Ancora di più Se riesco a fare questa cosa Probabilmente sarò fuori fuoco Sarò Non sarà Non funzionerà mai questa cosa Sto provando con la fotocamera Non mi posso vedere Quindi vabbè In ogni caso Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi invito a iscrivervi Se ancora non l'aveste fatto In descrizione Trovate tutti i vari link Dei social Se volete avere qualche spoiler Perché vi assicuro Che il prossimo anno Inizierà bomba Mi trasferirò anche a Milano Quindi farò tutta una nuova serie Per la scrivania Per lo studio Che mi farò Eccetera Quindi Direi che da Blink è tutto Da Blink malato è tutto E ci vediamo Con il prossimo video Non so quando Ciao 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 Grazie.